Il discorso circa la volontà vale per il velocista torinese Livio Berruti qui in due gare vittoriose. Ha portato il record nazionale dei 200 metri con curva a 20 secondi e 8 decimi, tempo di altissimo valore, ha battuto i più rinomati scattisti europei. Ebbene, anche a lui, come ad ogni altro campione di successi, non sono stati regalati da un benigno destino, che nello sport tutto si ottiene, poco o molto che sia, soltanto a prezzo di sacrifici e sforzi tenaci. Nelle corse di scatto un altro nome, Giuseppina Leone, si è confermato degno di appartenere all'elite mondiale. Ecco la vittoriosa nella corsa dei 200 metri alle Universia di Torino, in 23 secondi e 8, nuovo record italiano.